ore 5 e 15 ok dobbiamo dobbiamo prendere un po' di di sfocatura un po' di macchine davanti cioè ragazzi è assurdo cioè sulle 5 e un quarto e ci sono la fila c'è una fila pazzesca davanti e anche dietro tutto per andare a fumo zona non si può dire non si può dire oh raga è buio è cioè guardate questo lo preso ora questo qua ecco questo lo prendo ora madonna che bestia sai se era sano che bello che era bello ragazzi si si bello al buio oh zio guarda cosa ho trovato ma che bestia guarda guarda qua lo vedi lo vedi eccolo qua ho mangiato io guarda c'è un altro lì guarda lo vedi raga l'ho già scoperchiato questo era sotto no c'è il gemellino accanto doppio sono tutti sotto tutti sotto sono guarda lì una bombetta piccolina amore amore il primo porcino guarda l'ho già scoperchiato guarda sotto lì se c'è un altro zio visto quello è tuo prendilo prendilo grande zio prendilo prendilo ne ho un monte mi cascano dove andiamo a raccoglierlo e ce n'è un altro lì sotto guarda anche qua guarda guarda eh uno qua uno e l'altro lì sotto due dopo aver preso questi due non potevo non prendere questo no non si può non fare non si può non prendere zio ma che andiamo sul sentiero Gianluca io rimango qui perché l'ho già trovato con questo 5 mamma mamma mia bella ho detto ho detto che volevo trovarne uno grossettino bello bello no no vediamo zio zio ora ora bisogna che li cogli vai vai vediamo i piccoli mamma mamma mia si staccano mamma Thomas tu sei un mito mamma ma che grande raga parlo piano perché ci sono i fungaioli ma eccolo un altro bello uno due tre qui ecco qua questo questi due lo scrocchiamo Gianluca Fabellino oh bello oh croc eh ragazzi 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 no tre guarda qua uno e uno lì eccolo eccolo e eccolo qua questi tre allora allora zio intanto prendo quello piccolino qua che è questo qua però ora tu devi vedere dove è messo questo lo vedi? è andato sì no no non viene fuori va è andato si è tutto muffito davvero ragazzi qua siamo nella fengaia ho trovato già i primi due è un altro bello è un altro bello? è un altro vicino l'hai trovato? è bravo prendilo è tuo ma io prendo questo Gianluca bella roba oh sì 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 era bello sì ma ciccio ci sei troppo scoraggiato basta dai trovane un po Gianluca una bellezza una bellezza una bellezza mamma non è possibile non è possibile la vergogna sia con te questo è il fuoco di oggi eh sì questo è bello che bello ragazzi però a mezzo a mezzo mamma no prendi anche questo bello bella roba Anna questo è per te Gianluca Gianluca ma quanti se ne trovano qui vieni 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 amore mio vieni guarda qui guarda la bombita che bella la bombita ah bello sodo queste sono soddisfazioni Gianluca cosa hai trovato Fabio? allora questo lì bello bellissimo però ragazzi tanta roba raga no no incredibile guarda quello lì è incredibile quello lì sotto incredibile sì c'è altro lì sotto è tuo figlio figlio no ma questo è bello Fabio vieni Fabio vieni fallo 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 no incredibile vado 3 2 sanissimo sanissimo ragazzi questo è il fungo della vita guarda questo è un chilo è un chilo è un chilo grazie